Alla morte di Silvio Berlusconi anche il presidente della Russia Vladimir Putin lo ha ricordato, ha parlato bene di lui, vi ricordo che c'era una amicizia forte e completa tra Silvio e Vladimir e pensate che lo stesso Vladimir Putin ha voluto chiedere, ha chiesto un minuto di silenzio per la scomparsa, per la dipartita di Berlusconi che vi ricordo è morto all'ospedale San Raffaele di Milano a 86 anni di età. Insomma, sembra proprio che i rapporti tra Berlusconi e Putin siano stati, quando Berlusconi era in vita, molto molto buoni, erano affiatati, erano veramente rapporti di pura cordialità, tanto che lo stesso, ripeto, Vladimir Putin ha chiesto un minuto di silenzio. Per omaggiare la memoria, per omaggiare la scomparsa di un grande leader politico che nel bene o nel male ha scritto una pagina del nostro paese attraverso la creazione della tv commerciale Mediaset, la creazione del Milano, poi rilevando la Moï Monza, creando una forza politica, Forza Italia, un partito politico, creando Milano 2, avendo poi avuto rapporti anche con personaggi comunque discutibili, a mio avviso, no? Insomma, comunque, non bene, non male, Berlusconi ha fatto la sede del paese d'Italia. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione del video di Armea qua, iscrivervi, se vi va, commentate, ciao a tutti.